Primo step fatto Porcaccio il cane stavo morendo Oh beh Allora poi Qua nel mezzo Bravissima Friede Bravissimo ancora Ci scommetto tutto che mi fa fuori Sì 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 Che poi il bello nella prima run Questo io manco l'avevo trovato Bene Che mi dava d'oggetto qui non me lo ricordo Ah ok Osso di ritorno e fiamma di piromanta del merda Ok Bene Siamo pronti Ciao figlio di culo E cosa vuoi fare? Ti venga dosso sapilo E la madò Eh sì cosa vorresti fare? Oh no Quindi posso staccare Volendo Ci sarebbe altro da fare? Senza battere un altro Boss No Probabilmente abbiamo Pulito quest'area Mike L'abbiamo Proprio presa Detto in termini Molto male Morto Ciao Mi ha dato 16200 anime perché non ho messo il resto Non abbiamo missato nessun boss, vero? L'abbiamo fatti tutti E a quanto pare Almeno quelli che potevamo fare Beh appunto Perché domani con Pietro ci tocca Allora Fare tutto Domani con Pietro ci tocca fare L'autre che hanno Archivio centrale Archivio centrale Poi I fratelli I fratelli I fratelli Con tutti e tre noi dobbiamo farli Tra l'altro Esatto Poi Vetta dell'Arcidrago Vetta dell'Arcidrago Poi DLC Tutte e due Aspetta poi alla fine del gioco anche La fine del gioco anche È la fine del gioco ovviamente Esatto DLC E tutte e due Madonna Non ci si riesce Entro domani No no Non ci si riesce Madonna puttana mi dir Eh ha potuto mi dir Mi dir in tre No In tre E ho già ben 89 ore Su questo gioco La mia vita fa schifo 89 Boia Sì Io ne ho 124 Haha You son of a B